Teatro Sociale di Piangipane riapre venerdì 25 gennaio con Luisa Cotifogli. Il teatro ripropone la sua programmazione ormai consolidata, che alterna proposte di tradizione ed innovazione, spettacoli popolari e di nicchia. La seconda parte della ventinovesima stagione del teatro avrà come filo conduttore un pochettino la qualità della musica, la solidarietà e la voglia di stare assieme, quindi con eventi gioiosi per alcuni aspetti, di qualità dal punto di vista musicale, a conferma di un'immagine del teatro sociale che si propone come uno dei momenti migliori di proposta musicale e artistica del territorio e soprattutto con una grande capacità di fare aggregazione perché viene sostenuto completamente dal volontariato e solidarietà nei confronti di persone più bisognose o anche di eventi molto particolari. E poi è un momento anche di convivialità, in quanto ci sono i cappelletti, giusto? Sì, giusto, noi lo diamo sempre un pochettino per scontato, però una delle nostre caratteristiche principali noi uniamo sempre alla musica anche la convivialità e la proposizione dei nostri mitici cappelletti completamente fatti a mano dai volontari che vengono proposti a metà dello spettacolo tutte le sere. Teatro sociale giunge la sua ventinovesima stagione e quest'anno partite con il 25 gennaio, quali sono le proposte? Allora, partiamo con Luisa Cottifogli, con il suo nuovo album, Come un albero d'inverno, dedicato alla montagna, le sue origini, poi a seguire un omaggio a Edith Piaf con Daniela Piccari, l'attrice romagnola e cantante Daniela, poi passiamo agli Animals, la storica band che ha fatto la storia del rock, quelli sono quelli veri, sono proprio loro, poi a seguire sempre dall'Inghilterra una nuova proposta, Moni Tivoni, cantautore soul, R&B, jazz, funk, poi passiamo al Carnevale con due serate un po' festose, con Greg, Claudio e Gregori, famoso per il duo Lilo e Greg, ci porterà uno show swing comico con varie sorprese, poi a seguire un'altra serata dedicata al Carnevale, dedicato al Carnevale di Napoli, verrà una giovane band napoletana, faremo questa festa un po' carnevalesca e a seguire il venerdì 8 marzo, Olivia Sellerio, della famiglia Sellerio, cantautrice palermitana, e ha scritto la colonna sonora, lei scrive le canzoni per Montalbano, per la famosa serie Montalbano. Poi il 15 marzo, Fabio Treves, che è il nostro bluesman italiano, uno dei migliori bluesman che abbiamo in Italia, il venerdì 22 marzo faremo uno show multimediale, concerto live, video, dedicato ai Beatles, e il weekend finale, 29 marzo e 30, che è il nostro weekend di chiusura, il venerdì ci sarà Roy Paci con l'anteprima del suo nuovo spettacolo, Carapace, e sabato le Larkin Poe, che è questo attesissimo duo delle sorelle americane, che arrivano in Italia per la seconda volta, sono venute a novembre a Milano, e le tendiamo a piangipane a marzo, per la festa di chiusura. Poi il teatro, due eventi teatrali, uno è Tioro, che è il cappuccetto rosso senegalese, era bravennato, perché il regista era Alessandro Ragnani, è prodotto dal Teatro Le Albe, l'Accademia Perduta, e il corto dedicato a questo spettacolo di Maria Martinelli, anche questo è un'anteprima. e l'ultimo evento del teatro è Maria Piatimo, la comica faentina. Per concludere, il martedì del sociale, l'evento dedicato a Wustock, sono passati 50 anni e riviveremo questa festa del mitico concerto, un evento a sorpresa.